Arrivano, questi sono i pinguini Smettila Steph Perché abbiamo iniziato a parlare di pinguini? E questo sei tu Loro arrivano Tu ne stendi uno con un calcio E scapi via Riarrivano Ne stendi uno con un calcio E scapi via Prima o poi Secondo me li finisci Può funzionare È una brutta persona Se uno ti azzanna e ti si attacca Lì dai un pugno Ah non puoi insegnare come si prendono a calcio i pinguini Steph Basta Eh può essere utile Bene C'è un bel po' di gente Due team No no non due Sono quattro team Io ho visto due team Magari Quattro persone e due team Magari Io ti rubo il loot del market Fere Fere Ci molliamo per una cosa del genere Te lo dico Steph erano piene tutte le case Che devo fa' Ci molliamo Io te lo dicono Ah erano piene tutte le case Mi rubo anche la cesta Fere Fere Tienitelo Ma chi è che sta a mitragliare fuori? Hanno trovato il minigone La guerra Hai armi belle Pompa Vampa fucile È quello Io ho fucile a pompa E tu dietro Non c'è entrato nessuno in questa Ok Pensavo ci è andato Aspetta Gli ho visti molto Verso questa direzione No si Eh si c'è uno qua Manca l'altro Dov'è? Non lo so Magari erano in case diverse Scusa ma mi servono colpi e armi Vai Grazie Eri abbastanza pieno Il pompa verde poi me lo prendo Sempre meglio del mio Che era comunque bianco Non sento rumori Quindi penso fosse da solo Che secondo me era da solo Allora meno uno L'uomo c'è uno C'è due che stavano inseguendo altri Eh c'è tanta gente qua Tanta, tanta, tanta Andiamo aggressivi? Sì Ok seguimi Ok P-p-p-p-p-p-p-p-p Visti? Ottimo Eh ma cavolo Sono lontano UC No Alla nostra sinistra è il 300 Sopra il market Lo vedi? No eccolo sì Eh però fuci la pompa che devo far Eh Posso solo guardarti Dai Che brutto tempismo per ricaricare Oh ma Toh Togliti Steph Mi ha fatto male Eh ho notato Ti sei fermato lì Anch'io l'ho fatto male Fede Uè 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 È lì Alla sinistra Da sud ovest Ho visto ho visto ho visto Ho visto Ma muori Ma porca miseria L'ho colpito io da una parte Tu dall'altra E lui sta focussando Un'arma ti prego Cosa? Sono povera Mi serve un'arma L'ho presa Allora mi servono anche cure In questo momento Ci serve tutto Cavolo Sei focussato su di me Accidenti a lui E non l'hai notato te Tieni due bende Ma come puoi picchiare Una povera signorina Vestita da guerriera Appunto Ecco fatto Adesso mi cura Va tutto bene Manca gente Oh qualcuno è già morto Guarda che prima Stavano sparando parecchio Steph Quindi magari qualcuno È già morto Uno l'abbiamo ucciso noi Un'altra ora Qualcuno se n'è andato Guarda le scale Sì esatto Quello stavo guardando Hanno lasciato perdere Qui avranno luttato Allora potrebbero non essere luttate Ho paura D'entrare da sola Il burger No il burger Mi sa che ho visto gente andare Poi non so Ripeto Se sono quelli Che poi hanno deciso di andarsene Che ti devo dire Magari l'hanno lasciato lì vuoto Non lo so Non lo posso sapere È di sicuro questa casa Sì Questa ho sentito una cesta Però è un po' contento Ho detto Non so quanta gente c'è Mi viene una paura Fuci la pompa verde Oh lo voglio Ho anche un trampolino Ok Buono Aspetta un attimo Depende Io un'altra me la tiro Sai com'è Non male M16 bianco se non ce l'hai Ma credo che ce l'hai Ce l'ho Ce l'ho L'ho preso dal tipo Che abbiamo ucciso Io vado un po' sul tetto A controllare Ok Vediamo Io andrei Sinceramente al burger Sì 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 Ma poi ci muoviamo pure Siamo anche fuori dalla zona Vabbè di poco Eh sì di poco però Il discorso c'è Non ho colpi Io ho 69 Io ho 30 Che ti devo dire Non erano molto messi bene Quindi evidentemente Che l'ho stato bene Grazie mille La donazione The fire best The fire best Mi mangio una 5.000 Bravo Mi sono rotto Di mangiare pizza No io ma finisco dopo Anche io ormai Tanto più o meno Rimarremo fino alle 10 O fino a quando riusciamo A farci le vittorie Non l'hanno lutato L'hanno rosa solo Sì Ovviamente Anche delle bricele Eh sì Niente 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 Andiamo via Che povertà Qua non è rimasto più nulla Purtroppo Che povertà Beh verso condotti Era carino andare Ma sicuramente Sono andati Quelli che se ne sono andati presto Sì 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 Molto probabile Molto molto probabile Sicuramente loro avevano La maggior parte del lutto della città Perché siamo davvero Troppo messi male Sai che cosa però Cosa Anzi sai cosa Ho due volte Trampolino Ah no Non è un trampolino Sembrava No all'inizio è sembrato anche a me Ma non vedevo bene C'era la rete del campo E quindi un po' ti confondeva Però poi Ok almeno un po' di copi di quello È evidente che non lo era Eh Sì è un trampolino Uno Non due Lo so Lo ho capito Una Ok Anche quella casa Hanno spazzolato via tutto Sto Non c'è dal secondo Fere Ah Che stai a dire Ti dicevo che hanno fatto anche quella casa alla sinistra Ti sto trollando Siamo non fai ridere Basta Eh Non ho neanche shield Condotti direi tutto affatto Per via delle rampe ovunque Sì Niente loot per noi neanche qua E player a 150 Un cavolo di Sono i due che sono scappati Secondo me Sono quasi sicuro Sì Ti hai visti? No Ok vabbè 150 Ah ora sì ora sì Vanno alla sedia Io direi di andare Sì ci massacrano Eh lo so Però non abbiamo loot Sì sì infatti Ci massacrano perché Tu non hai shield E hai 75 di vita Io ho 75 di vita E 25 di shield Loro sono 100 di vita 100 di shield Entrambi con armi migliori delle nostre Però Magari Gli viene un infarto E li ammazziamo E zitto Pronta? Sì No Non li vedo Stanno loottando nelle case Sì 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 Quindi bisogna fare attenzione Se li ammazziamo Sono pieni di loot Uh Fere La speranza prima della battaglia Tieni Grazie Steph Le lemosina Ok Vado Questo è un segno eh È un segno del destino Ma io sono quasi sicuro Che Cosa? Era già lootata Perché loro non hanno fatto questa scale Probabile E quindi se era già lootata Loro se ne sono già andati Quindi dobbiamo continuare a seguirli Dici? Uh uh Ok Andiamo? Sei sicuro che non siano in qualche casa? Uh uh No Probabilmente no Probabilmente no Non avrebbe senso No beh certo Sono andati Alla fabbrica secondo me Ok E ormai ci sono già da un po' Quindi se non era lootata Eh Ha zaccato Sì Però stanno anche fightando Eh sì Non mi sembra che fosse rivolta a noi il colpo No no per niente Infatti no Esplosioni pure? Te l'ho detto full equipati cavolo Ho visto le esplosioni Mettiamoci in mezzo Quel cavolo di astronauta è basso eh L'ho proprio bucato in faccia Allora io purtroppo non mi posso permettere di fare un fight in cui distruggo tutte le costruzioni Nenche io Così via Perché i colpi sono quelli che sono Ma che cavolo hai combinato ste Io non ce la faccio a fare ste robe fighe Invece ce l'ho fatta Ma tutti i bassi devo lasciare Aspetta Dov'è quello con la balestra? Ah Colpito Io ho fatto un headshot ad entrambi Dov'è finito? Cavolo c'ho solo 28 colpi Dai ha di nuovo shield Cavolo Accidentio Che brutta posizione Sono di fronte a noi a 105 Quelli i due Ok Ci attentiamo? Sì Vieni allora Ok Proviamo Non saltare Ah scusa Ho già saltato Tranquilla Andiamo con fucile a pompa Sì Sono molto vicini no? Sì sì Eccoli di fronte a noi Sì 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 Occhio Sotto di noi Instant shot Cos'hanno? Nuovo fucile a pompa? Una Bravissima Arriva Brava Brava Yes Velocissima Velocissima Pensa prima a restarmi Che se non ci lasciano Cercando di tornare Da te Qua 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 Fai Sono giù Ok C'è uno che mi sta cercando di colpire la balestra Lo sto odiando Steph Mi sta facendo uscire di testa Capisci? Brava Brava Cavolo Ero concentrato e mi sentivo Mi ha fatto un cavolo di goccio Spim la balestra Capisci? Io ho bende ma le devo usare anche per me Steph Scusa Cioè ne ho poche Guarda qui ce ne sono Puoi prendere quelle Tranquilla Uff Eh uff Un corno Ok che gli ho mandati i bassini gli altri però È stato un fight difficile Soprattutto con così pochi colpi Gli visti Cellini in mezzo al cespuglio? Ah non li avevo visti Ok perfetto Mi metto qua e me li tiro Maz ne ho Allora bisogna stare attenti a quelli lì Sopra Sud ovest Che ci continuavano a cercare di prendere quella balestra Ho i colpi Ma questo me lo merito scusa Ho i colpi L'M16 blu me lo merito Tutto tuo Come Sono ancora lì no? Perché io voglio ovviamente vendetta Sì guardalo Cioè vabbè raga ma state scherzando Colpito 30 Non aveva shield Cioè basta mo Non la sopporto più la tua accidenti di balestra Ferrelli andiamo ai trampolino? Sì Mi ha rotto le scatole durante tutto il fight È uno spreco eh E poi tu che mi urlavi Magari ho una nuova pompa E quindi nella mia mente pensavo sono morta Perché sono una nuova pompa E sono morta Vado Invece poi ho vinto Il fight Vado? Sì Maledetto Dov'è l'altro? È andato sotto le scale? Ma davvero? Sì Morto? Ok Hanno cercato di check inarci altri Quindi stai molto coperta cara Ti metto qui sotto Ok Ti manca colpi di qualcosa? È sempre delle M16 Perché C'è un vampo a fucile blu Non so se tu ce l'hai già Già preso? Ok E ti dicevo Aspetta Aspetta Fere Ok Sono sopra di noi nella montagna Vieni giù Ma che cavolo Sì ho visto Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Anche perché Non ho niente da lontano Purtroppo Ok Quindi sarebbe sfumido Spurmi No No Vabbè andiamo Ma dove sei andato? Oh c'è l'altra parte Cavolo No non volevo ovviamente Faitarli Ah penso io Stavo andando Di tra loro Cercano di check inarmi Steph Ovviamente Ho costruito Per non farmi prendere Al volo Ok Eccomi qua Maledetti Oh che visione Cerca di check inarmi Quindi occhio Via via Steph hanno una visione Della madonna Cioè anche ora ci vedono Nonostante la cotta No tranquilla tranquilla Adesso è tornato a essere Un fight alla pari Quindi è tutto un altro discorso Ti hai visto? No stavo controllando intorno Due volte 23 di shield E stavano scendendo Quindi non sono più Sulla fortezza Non sono bravi L'unica cosa che mi preoccupa È gente alle spalle Perché siamo ancora a 14 E lo so E non vorrei neanche sprecare Troppi colpi su di loro Lo so Però loro sono out of zone Quindi se noi ci posizioniamo bene Prima o poi vengono da noi E posizioniamoci bene allora Facciamoci una fortezza Uno è alla sinistra È sceso di brutto Ok Sì 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 Gli ho visti Mi segui? Sì ti seguo Sono dietro di te Ok Non ti preoccupare Inizia a farti una Appena sali un po' di quota Farti una fortezzina Ok Velozzi 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 Ok Li vedi? Sei un attimino Dai fronte a noi Occhio Ok Ma è quello fermo Uno giù Ma è andato FK Però No no Mi stava mirando Colpito Colpito Ho 30 di shield tolti Ricarico Non lo puoi restare Non lo puoi restare Continua Rischio Ok Ok Non ho troppi colpi Quindi vai Steph Cerco di dargli fastidio In tutti i modi Ma penso Lo stai arrestando Steph Sì lo so Sto rischiando Che faccio? Ormai avvicinati Almeno nel caso Mi potrai salvare O finire di ammazzarli tu Fai attenzione Perché ero Cavolo Sono qui Sono qui Sono qui Sono qui Ti aspetto allora Cavolo Lo sapevo Quello restava Avevano la collinetta A loro vantaggio Uno giù Ok Steph Arrivo Non mi ha visto Sì Non mi aveva visto Arrivata dietro Continuava a guardare E io Boom Dove era l'altro morto? Qua? No Non volevo saltare Scusa Fammi scendere Grazie Grazie Volevo andare Solo a prendermi Un po' di loot Comunque Cavolo Non è che avessero Così tanti colpi Steph Già Sai com'è Già Fuccio da caccia Ma lo prendo Cosa ti manca? Dimmi se ti manca Zona Via 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 No dai Sono messa abbastanza bene Steph Materiali E due player a 60 gradi Sopra una torre altissima Li vedi? Li vedo Li vedo Penso di poterli massacrare Perché stanno affettando qualcun altro Ok Siamo solo indietro Ma 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 Ha già iniziato Già iniziato a sparare Boom Due volte shield E dopo che un headshot Da 46 di vita Quindi uno è basso Per essere basso E se non era fucile Vuol dire che non ha altro shield Ah no Siamo fuori Cavolo Volevo riprendermi la mia torre Peccato Ti dicevo Steph La legna mi manca Eh ok Te la do adesso Andiamo qui dietro Mi hai chiesto come ero messa Mi manca la legna C'è una base anche qui Non sappiamo se c'è gente Quindi stiamo abbastanza coperti Non mi è andata bene A livello di materiali Con Ok Con le kill che abbiamo fatto Quante ne hai tu a proposito Anche io 4 8 kill Bello sto game Bello si Bello Eh guardo Sento troppi passi Lì sotto Ok Headshot una volta 46 shield 23 shield A terra Ok dove sarà Quello con lui No so Fa una kill 7 vivi Ok Sopra Steph Sopra guardalo Si vedo 23 shield due volte Uno si è buttato L'ho visto buttarsi Eh più o meno Sto nella montagna Ok occhio Lo so Occhio 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 Buildano tra 60 e 75 In mattone Lo vedi Ok ok Ci sparano Via 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 Scendi di quota Ok Ok È che non voglio sprecare troppi materiali qua Perché siamo comunque fuori zona E ci dovremmo muovere a breve Cavolo Quelli là sono davvero in alto Accidentio Già E sono dentro Mi sembra di sì Sì Sfortuna Sfacciata di chi si fa la torre Di 54 metri Guarda Cavolo L'ho rivisto passare Peccato Occhio Basta Sto rischiando troppo Vedono vedono Accidente all'oro Con quella portetta Sono tornato sui muri Che avevamo fatto prima Adesso c'è un albero tra me e l'oro Devo trovare gli altri player Ne ho visto uno È inutile che lo spari È inutile che lo sparo Credo che al momento sia inutile Fightare le altre persone Bisogna far scendere loro di vita Sono d'accordo Bisogna un botto rompergli le scato E sperare che esso siano out Se loro esso sono out Non è male Sei tu? Sì 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 Ok Dai E uno ci viene addosso Da sotto Nel fiume Sta billando per salire sul fiume Ok A 105 Lo vedi? Sei un attimino Mi sto posizionando Steph Ok 30 di shield Sono due 30 30 Bravissima Out of zone per un attimo Quindi ha preso danno Di nuovo out of zone Una terra Dov'è l'altro? Uh cavolo Quelli lì sopra Steph Già Non mi danno tregua Dove è finito l'altro? Eh sono leggermente giù Che cerca di restarlo Un ammazzato Anche l'altro Morti tutti e due Ok Mi sono fatto una porta Per cercare Un solo player Più quelli lì sopra Ok E chissà dov'è quello solo Cercherò di sniper L'hanno appena sniperato Ok Quindi siamo due contro due Con quelli in alto Vero? Cerco di scoprire dove sono Ma sono scesi? È quello che sto cercando di capire No non seguirmi Non seguirmi Torna lì Dove dove devo andare? Torna lì Ok E siamo fuori L'ho visti? Sono scesi alla sinistra Colpito Colpito Ok li vedo E si è lanciato Io vado a luttare un attimo Occhio Non è in nulla vero? No Delle bende Ora me le tiro Cavolo eh Ma l'altro è rimasto sopra o cosa? Non lo so Non l'ho capito Avevano una visione assurda Lo so Cavolo Non aveva mazzo Seriously No eccoli Eccoli Sono tutte e due Già alla sinistra Che mirano Uno fermo Che cercherà di sniperare Di sicuro Eh cavolo Io sono messa male Oh una terra Mi ha preso l'altro Te lo dico Sono messi male Cavolo Io ho pochi colpi Poca vita Non ho shield Cioè tutti quelli Che abbiamo lottato Facevano schifo Oggi Guarda eh Sono messi male anche loro Vai dentro la zona Li vedo Brava Dimmi che li hai presi Sto cercando di farli cadere Una terra Una terra È caduto? Ce l'ho fatta? L'ho ammazzato io L'ho ammazzato io Farnetil E l'altro? Siamo 2v1 Siamo 2v1 L'altro dov'è? E lì Lo vedi? Sì Devo ricaricare L'ho fatto cadere Steph Ho finito le munizioni 23 Non ha shield Non ha shield Ho finito le munizioni Totalmente Sì Sì Te l'ho detto che ne avevo poco Mi rimane solo fucile da caccia E continuo a colpirlo così Occhio eh Sì Yes Yes Bravi Facevo schifo Zero colpi Senza vita Senza shield Mamma mia Che ansia Che ansia Oggi è una bella serata Dai Secondo me è una bella serata 2 su 3 Di quelle che volevamo fare In questa live Quindi stiamo andando alla grande No